Se stai cercando una soluzione che ti consenta di prendere il controllo e fornire assistenza da remoto ad un dispositivo Android, quindi uno smartphone, un tablet, eccetera, hai trovato il video giusto. Ciao, sono Zane di Turbola.it e nel corso di questo video vedremo come utilizzare Supremo Mobile Assist appunto per collegarci da PC verso uno smartphone o un tablet Android e quindi prenderne il controllo. Quindi fornire assistenza ad un collega, ad un amico, ad un parente lontano ed aiutarlo a risolvere i propri problemi con lo smartphone. Esattamente come siamo abituati a fare da PC a PC. Se l'argomento ti interessa e anche tu hai bisogno di fornire assistenza da remoto alle persone sui dispositivi Android, seguimi. Prima di cominciare vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbola.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Bene, come dicevamo in questo video realizzato in collaborazione con lo sviluppatore Nano System vedremo come utilizzare Supremo Mobile Assist. In pratica la soluzione funziona così. Per prima cosa l'utente che ha bisogno di supporto deve installare sul proprio smartphone o tablet Android una app gratuita, è facilissima da installare e si installa gratuitamente tramite il Play Store. In seconda battuta l'utente appunto comunica le credenziali in modo completamente analogo a quanto siamo abituati a fare quando forniamo assistenza da PC a PC al tecnico che si deve collegare. A questo punto il tecnico che deve fornire assistenza immette appunto le credenziali che ha ricevuto nel programma sul proprio PC, Mac o un altro smartphone o tablet Android o iOS e può così finalmente collegarsi e vedere lo schermo dello smartphone sul quale deve intervenire esattamente come se ce l'avesse in mano e quindi può svolgere tutte le operazioni di assistenza classica e quindi ad esempio aiutare qualcuno a cambiare le password, cambiare le impostazioni del sistema operativo. Non c'è veramente limite, può svolgere tutto quello che farebbe se potesse appunto toccare il telefono fisicamente. Ma entriamo subito nella parte pratica, quindi prendiamo lo smartphone che deve ricevere assistenza e colleghiamoci a questo url turbola.it barra 3988. Si aprirà così l'articolo che ho pubblicato su turbola.it con tutti i riferimenti. Quello che ci interessa per questa primissima fase è il link che ho riportato qua sopra, quindi il collegamento a Supremo Mobile Assist. Cliccandolo si aprirà la pagina del Play Store tramite la quale potremo installare l'app gratuitamente direttamente. sullo smartphone sul quale abbiamo bisogno di fornire assistenza. Tramite questa strada, che è quella raccomandata, possiamo installare l'app tramite Google Play ed è questa è appunto la metodologia raccomandata. Se però il dispositivo Android che abbiamo sotto mano non è dotato di Google Play, non ci resta altro da fare che seguire l'articolo e qua sotto troviamo anche il file APK ufficiale. Infatti lo sviluppatore mette anche a disposizione un file APK scaricabile direttamente sul dispositivo che possiamo utilizzare su tutti i dispositivi che non abbiano Google Play preinstallato. E questa è un'attenzione che mi è piaciuta moltissimo perché questa è una fonte di download ufficiale. Quindi non c'è bisogno di girare internet finendo magari su siti dalla dubbia reputazione per scaricare l'APK perché lo possiamo ottenere direttamente dalla fonte ufficiale. Completata l'installazione dell'app siamo immediatamente in grado di visualizzare da remoto lo schermo però non possiamo ancora interagirvi quindi non è possibile tramite il collegamento remoto cliccare sugli elementi a schermo. Se appunto dobbiamo quindi prendere anche il controllo da remoto del dispositivo Android dobbiamo appunto installare una seconda app come indicato dalla schermata dell'app stessa. Questa seconda app si chiama Supremo Mobile Add-on e la possiamo scaricare appunto seguendo il collegamento che troviamo sempre qua nel nostro articolo. Una volta installata anche questa seconda app che è disponibile di nuovo sia tramite Google Play ma anche tramite file APK dalla fonte ufficiale dobbiamo seguire l'indicazione appunto riportata dall'app stessa e garantire il privilegio accessibilità all'app Supremo Mobile Add-on che consentirà appunto all'app di operare e di consentire a qualcuno di connettersi e di prendere il pieno controllo del telefono da remoto una volta chiaramente. essersi autenticato. A questo punto è davvero tutto pronto quindi la persona che deve ricevere assistenza non deve fare altro che comunicare il tuo ID e la password al tecnico che deve fornire assistenza tramite una delle funzionalità. Quindi se clicchiamo ad esempio condividi i dati di accesso ci verrà fornito lo schermata standard di condivisione di Android che permetterà di inviare questi dati tramite SMS, email, whatsapp eccetera oppure chiaramente possiamo sempre telefonare al tecnico e dettarglieli al telefono. Prima di farlo è però bene dare un'occhiata a questi due pulsanti che ci sono in fondo alla schermata che consentono appunto di abilitare oppure inibire la condivisione dello schermo quindi la possibilità da parte del tecnico di remoto di visualizzare quello che c'è sullo schermo oppure di ottenere il controllo remoto. Questo è molto utile ad esempio se il proprietario del dispositivo Android non vuole concedere il privilegio di operare quindi cliccare ma ha solo bisogno di mostrare qualcosa al tecnico remoto. Ecco quindi che andrà a disabilitare il controllo remoto e quindi avrà comunque il pieno controllo del dispositivo il tecnico non potrà cliccare da nessuna parte ma sarà lui a toccare i vari elementi a schermo però potrà appunto condividere lo schermo con qualcuno da remoto. Se invece deve ottenere assistenza completa appunto farà come in questa schermata in cui sono abilitate tutte e due le opzioni e così il tecnico potrà connettersi e avere il pieno controllo del dispositivo da remoto. Ora il tecnico che ha ricevuto i codici non deve far altro se non connettersi a turbola.it-3988 dal proprio PC e seguire il link a Scarica Supremo qui sopra in alto. Verrà così portato alla pagina ufficiale di un download dal quale appunto potrà scegliere di scaricare l'app per PC in questo caso oppure per una delle altre piattaforme supportate. Una volta cliccato download si troverà nei propri download un file come questo io sto operando chiaramente in ambiente Windows ma la soluzione è analoga anche dalle altre piattaforme. Mettiamo tutto a icona ed ecco qua che il programma parte e siamo già pronti senza bisogno di installazione per connetterci. Quindi a questo punto io ho digitato l'ID del smartphone Android al quale voglio connettermi procedo cliccando connetti e mi viene così richiesta la password del dispositivo. Procedo così a digitare la password che mi è stata fornita ed ecco qua che sul dispositivo al quale voglio connettermi viene richiesta una conferma di connessione appunto per la massima sicurezza ovvero l'utente il proprietario del dispositivo deve cliccare avvia adesso per consentire al tecnico di connettersi. Lo facciamo subito ho cliccato avvia adesso sul dispositivo Android ed ecco qua che mi ritrovo appunto davanti alla schermata iniziale della mia home del mio dispositivo Android al quale mi sono connesso. E come dicevamo prima appunto possiamo cliccare su tutte le varie funzionalità. Quindi possiamo di nuovo aprire il browser web accedere anche alle impostazioni per modificare magari qualche settaggio oppure configurare l'email e in generale interagire con tutte le app proprio come se avessimo il telefono in mano. La nuova versione di Supremo Mobile Assist supporta anche la rotazione quindi in caso il telefono venga ruotato in orizzontale verrà appunto visualizzato correttamente anche sul tecnico del pc. Inoltre è importante ricordare che tutti i dati vengono criptografati prima di essere scambiati col dispositivo remoto e quindi la sicurezza è garantita dalla criptografia quindi anche in caso il flusso di dati dovesse essere intercettato l'aggressore non riuscirà in nessun modo a leggere i dati scambiati fra la postazione del tecnico e lo smartphone sul quale sta operando. Il software che deve utilizzare il tecnico invece è anch'esso gratuito per il collegamento da pc a pc in ambito personale mentre invece per connettersi ad un dispositivo android e prendere il controllo da remoto come abbiamo visto nel corso di questo video è utilizzabile gratuitamente per 21 giorni trascorsi i quali sarà necessario acquistare una delle licenze disponibili con prezzi che partono da 5 euro al mese. Per tutti coloro comunque che abbiano già acquistato una licenza supremo da pc a pc perché magari lo utilizzano in un ambito professionale anche la funzionalità supremo mobile assist per connettersi ai dispositivi android è già inclusa quindi non c'è nient'altro da pagare in più. Bene cosa dire in definitiva? Beh sicuramente questo supremo mobile assist ricopre un ruolo importante nella cassetta degli attrezzi di tutti noi tecnici informatici che possiamo finalmente utilizzare questo strumento per offrire assistenza anche ai dispositivi android, tablet, smartphone eccetera esattamente come siamo abituati a fare quando abbiamo bisogno di aiutare qualcuno collegandoci da pc a pc. Un altro ambito di utilizzo importante da ricordare è quello di fornire assistenza ai dispositivi in ambito commerciale o industriale ed in particolare agli strumenti smart retail come ad esempio i palmari e i POS. Personalmente per quanto mi riguarda ho già utilizzato questo software con un'ottima soddisfazione per dare una mano ai miei familiari quando ci ritrovavamo lontani e avevano bisogno urgente di una mano con il proprio smartphone android. Quindi sicuramente il mio giudizio verso il software è assolutamente positivo e soprattutto per chi debba utilizzarlo in un ambito business perché magari ricopre un ruolo di supporto tecnico è una soluzione che consiglio senza alcuna riserva. Da zanaditurbola.it è tutto come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di farmelo sapere cliccando sul pulsante mi piace che trovi qua sotto per me è sempre molto importante. Quindi grazie, grazie ad avere un anticipo se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia non dimenticare di cliccare sul pulsantone rosso iscriviti e sulla piccola campanella che trovi di fianco. Mi raccomando la campanella. Allo prossimo video, ciao!